Flipped Classroom sul secondo triunvirato Dopo l'assassinio di Giulio Cesare, la Repubblica si trovò in una situazione di caos totale e di violenza inaudita. I filocesariani costrinsero i cesaricidi, gli assassini di Cesare, alla fuga. I principali protagonisti della congiura furono due, due punti, uno, Bruto, due, Cassio. Bruto si rifugiò in Grecia, mentre Cassio si rifugiò in Siria. Dopo l'assassinio di Giulio Cesare, Marco Antonio, che nel 44 avanti Cristo aveva ricoperto la carica di console, si propose come suo successore, ma il nipote diciannovenne di Cesare Ottaviano si dimostrò ben presto un abile rivale e assunse il nome di Caio Giulio Cesare Ottaviano, facendo chiaramente intendere che egli era l'unico erede legittimo di Giulio Cesare. Così Antonio decide di passare all'azione. Come dimostrazione di forza, Antonio decide di recarsi a Modena con le sue truppe, dove si trovava un altro cesaricida, decimo Bruto, che non voleva cedere ad Antonio la carica di governatore della Gallia Cisalpina. Ma il Senato inviò l'esercito consolare e Ottaviano con il suo esercito a combattere Antonio. Marco Antonio venne sconfitto nel 43 avanti Cristo nella battaglia di Modena. Dopo questa sconfitta, Antonio si rifugiò nella Gallia Narbonese, dove trovò l'appoggio del governatore Marco Emilio Lepido. Ma l'istabilità politica è insostenibile. Così Marco Antonio e Ottaviano si rendono conto che è necessario stipulare un accordo che vedrà coinvolto anche Lepido e nel 43 avanti Cristo i tre daranno vita a un secondo triunvirato dopo quello che venne stipulato tra Cesare, Pompeo e Crasso. L'accordo aveva una durata di cinque anni e prevedeva tra i vari punti anche i seguenti provvedimenti. Vediamo i due provvedimenti principali del secondo triunvirato. Due punti. Uno. La spartizione territoriale dei domini della Repubblica. In giallo i territori di Marco Antonio, in rosso i territori di Ottaviano, in azzurro i territori di Lepido. Questa spartizione verrà definita a Brindisi nel 40 avanti Cristo. Due. La formulazione delle liste di proscrizione, che erano liste pubbliche nelle quali venivano indicati i nemici di Roma che dovevano essere eliminati. Cicerone, inserito nella lista, venne infatti assassinato. Nota bene. Oltre ai regni clienti in beige vi sono anche altre due zone colorate. Due punti. Uno. In viola i territori controllati da Sesto Pompeo, il figlio di Pompeo Magno. Due. La zona colorata di grigio che evidenzia l'Egitto di Cleopatra, regno cliente di Roma, alleato con Marco Antonio. L'Italia non venne assegnata a nessuno, anche se l'influenza di Ottaviano era molto forte. Filippi, Macedonia, 42 avanti Cristo. A Filippi, Ottaviano e Marco Antonio vendicano Cesare sconfiggendo i cesericidi, Bruto e Cassio, che troveranno la morte. Dopo la vittoria di Filippi, Ottaviano fa il ritorno a Roma, mentre Antonio va in Oriente e dà avvio a una spedizione militare contro i parti che finisce in modo fallimentare e nel frattempo sposa Cleopatra nel 37 avanti Cristo, ripudiando la precedente moglie Ottavia, sorella di Ottaviano. Dopo tali vicende, Ottaviano inizia a mettere in atto una propaganda contro Antonio. Ottaviano mette in risalto i fallimenti militari di Antonio e il fatto che egli si era legato a una regina straniera che costituiva un pericolo per Roma e nel 36 avanti Cristo l'Epido fu privato dell'Africa per non essersi schierato con Ottaviano. In effetti, dopo il matrimonio con Cleopatra, Antonio si comportò spesso più da sovrano indipendente che da generale politico romano. Infatti, assegnò addirittura alcuni territori romani ai tre figli avuti da Cleopatra. Per Ottaviano e Roma era troppo, lo scontro fu inevitabile e Antonio e Cleopatra dovettero prepararsi alla resa dei conti contro Roma e Ottaviano. Ottaviano e Marco Antonio si affrontano in una battaglia epocale ad Azio nel 31 avanti Cristo e le truppe di Ottaviano sconfiggono quelle di Antonio e Cleopatra, che fuggono prima della fine dello scontro lasciando i propri soldati. Antonio e Cleopatra, giunti in Egitto, si toglieranno la vita. L'Egitto diventa una provincia romana e Ottaviano diventa così il padrone assoluto di Roma. Grazie.